48 ore dopo l'atto incendiario subito dalla palestra Dolphin di Angela Alboccino si cerca di ripristinare, di fare la conta dei danni, ma come ci si sente? Rammaricati, addolorati perché ogni piccolo pezzo di questa palestra è sacrificio, è sangue principalmente volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino e che continuano a starci vicino, solidali, ognuno si è alzato le maniche e hanno dato una bella risposta, è quella che mi aspettavo, conoscendoli non si sono tirati indietro, Crotone non è solo una mano incendiaria Crotone è gente che stamattina è qua con noi a spegnere il fuoco il fuoco che abbiamo dentro per il dolore, principalmente non direttamente a me ma a questa città dove cerchiamo ognuno di noi, non il nostro piccolo di fare qualcosa per farla rinascere, per farla risalire Hai detto io andrò avanti, ma avevi avuto qualche minaccia dal momento che si tratta di un incendio doloso? No, 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 non me la posso prendere con nessuno perché non è mai venuto nessuno nessuno ha mai fatto richieste di denaro, anche perché la cosa più sconcertante è una palestra non c'è giro di soldi, è sport, lo sport è passione da che mondo è mondo è un lavoro che chi come me lo fa sa benissimo che si fa solo e solamente per passione e per trasmettere questa passione alle persone interessate nient'altro, un punto di riferimento, un centro di aggregazione per ragazzi, per donne la mia palestra lo sanno tutti, è una palestra piena di donne donne che hanno bisogno di quell'ora, tutta loro, da condividere insieme a me Senti, dicevamo a 48 ore da questo triste episodio si fa la conta dei danni più o meno a quanto ammontano e soprattutto pensi di riaprire presto? Sì, ho promesso e glielo devo alle mie allievi, ai miei allievi ho dato un tempo, dopo Pasqua noi siamo di nuovo qua a lavorare tutti quanti insieme non mi piace fare la conta dei danni, non mi è mai piaciuto parlare di soldi il danno è quello morale e non è quantificabile Senti, cosa significa questa palestra per te? È la mia vita, sono 34 anni che insordina senza espormi troppo perché non ce n'è bisogno in questo lavoro faccio tanti sacrifici e faccio questo lavoro io ci vivo, ci vivo dalla mattina alla sera, mi trovi sempre disponibile comunque, sono sempre qua per qualsiasi persona abbia bisogno di allenarsi di un consiglio, ma anche a livello umano veramente, per quel poco che posso fare Senti, dicevi a telecamere spente questa è una città che si sta spegnendo però c'è tanta gente che ha voglia anche di riscatto Sì, è vero, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e sì, c'è tanta gente che è stanca di tutto questo non è, Crotone deve rinascere siamo noi, quelli che subiamo quelli che abbiamo subito le persone che ci fanno del male che dobbiamo fare qualcosa per fare capire che si può comunque andare avanti che si può fare qualcosa grazie